al termine della mia breve camminata ma due ore di cammino comunque penso sui dieci chilometri guarda qui c'è anche uno spot la macchina l'ho messa sarà 5 chi per me sulla mezz'ora di accelerare per di bestie di insetti qui puoi venire c'è uno spot e poi parco prima del ponte fatto altri video di pubblico quando sono a casa bestie di insetti sono venuti fuori vedi tifo comunque se non erano le bolle sottili lo spot sono le bolle sottili adesso magari scuola piena di insetti adesso qui ci dovrebbe essere che io odio piena di ribellule non so che insetti sono ma sono fastidiosissimi ma adesso però veramente se non sei allenato qui esco di qua ma io esco se non sei allenato qua è pericolo senso che devi camminare molto non devi il ritmo perché se no è un problema capito non devi mai abbassare il ritmo di camminare sempre volevo andare a saiano ma sono rimasto sulla basso ho fatto un video non si sente niente mi sa che non lo pubblico saiano è un monastero là in mezzo al verde bello sentieri del fai ci ritroviamo sempre qua parleremo vedrai in plein air qui ci rivediamo qui non ci ritmo di camminare